Il nuovo libro di Valentino Bellucci, Idee per un nuovo rinascimento, edito da BioBlu, è ora disponibile al link che si trova sotto al video nell'info box. Bene, eccoci qua. Ancora una volta siamo pronti. Dopo Leonardo ho pensato, ho pensato a un altro grande del rinascimento, perché, ripeto, noi stiamo facendo questo viaggio e questa battaglia, che sia una battaglia che un viaggio. E questa volta dobbiamo guardare con attenzione, perché dopo Leonardo c'è un personaggio che forse è spesso citato anche in modo non corretto, letto ancora peggio, perché ci sono, diciamo, delle cose molto molto complesse. E questo è Giordano Bruno, come vedete. Il caro Giordanone Bruno. E diciamo che qui parliamo di pezzi da 90. Stiamo parlando di un personaggio che ancora oggi è estremamente misterioso. E' vero che le opere, anche se hanno bruciato il suo corpo, hanno cercato anche di far sparire i suoi libri, in realtà le opere poi sono state preservate. Quindi chi vuole oggi le opere di Bruno le trova, sia i dialoghi metafisici, i dialoghi morali, le opere magiche, tutte le sue, le opere mnemoniche sulla memoria, perché lui era anche un esperto, diciamo, di potenziare la memoria. E spesso lo chiamavano, lo hanno chiamato in tutte le corti d'Europa, perché dei reali volevano anche potenziare la loro memoria. E Bruno andava. Bruno è stato anche lì un altro salvatico come Leonardo. Però era un salvatico che viaggiava, è stato a Londra, è stato a Parigi, è stato in tutta Europa, è stato a Praga, e poi in Italia dove sappiamo la fine che ha fatto. Anche su quella fine diremo alcune cose, perché ci sono degli studiosi che ne sparano di grosse, no? Dicono, eh, quello è stato un'autoiniziazione, l'aveva preparato tutto, cioè uno va lì per farsi bruciare. Non era proprio questo il desiderio di Giordano Bruno, lui aveva un piano diverso. Ecco perché, io poi nel libro lo dico, il Rinascimento italiano è stato, lo disse il grande poeta Reinhard Maria Rilke, che era un grandissimo veggente. Rilke ha scritto Le elegie duinesi dove sentiva gli angeli che gli dicevano quello che doveva scrivere, cioè i grandi poeti sono degli sciamani, sono persone che sentono messaggi d'altrove. E Rilke disse il Rinascimento italiano, perché Rilke era stato a Firenze, osservò attentamente Michelangelo, Raffaello, e disse questa è una primavera, ma non è mai diventata estate. Il Rinascimento italiano è rimasto una primavera, ma la primavera poi deve sfociare nell'estate. Quindi cosa vuol dire? Nella pienezza, no? La primavera è un po' una preparazione, i fiori, la fioritura, una fioritura, e quindi noi vediamo tutti questi grandi, anche Bruno, quello che loro hanno fatto sono fiori, che però poi non hanno portato il frutto che dovevano portare. Perché non è successo? Perché se fosse veramente avvenuta poi la maturazione, l'umanità non sarebbe caduta nel disastro del Settecento, il luminista, e del positivismo dell'Ottocento, che è quello che ci ha rovinati. Noi siamo stati fregati da questo. E' chiaro che faceva parte del Kali Yuga, del percorso di questo Yuga, il fatto che l'umanità non riuscisse, perché il ciclo stava comunque degenerando, e quindi c'è stata questa primavera incredibile, e adesso, adesso noi abbiamo questo compito, e ce la dobbiamo mettere tutta, di proseguire, di prendere, dove hanno lasciato, diciamo così, la fioritura, questi grandi del Rinascimento italiano, e di nuovo in Italia portare a compimento questa volta. Questa volta ci deve essere la maturazione. Questa volta non possono fare il rogo. Questa volta non c'è un Giordano Bruno da bruciare. Perché non lo possono fare? Perché non rientra nella loro grande ipocrisia, nel loro finto buonismo. Invece all'epoca di Bruno la Chiesa se ne sbatteva, bruciava le persone, anzi voleva proprio impaurire, diceva ecco quella fine che fa chi non obbedisce ai dogmi, finisce bruciato a campo dei fiori. Cosa che in realtà così lo hanno reso ancora più grande, di Giordano Bruno perché lo hanno reso martire. Infatti molti cardinali dicevano ma così lo martirizziamo, facciamo diventare un martire. E invece Bellarmino ha detto no, no, questo a un certo punto lo dobbiamo far fuori perché è troppo scomodo. Cioè uno come Bruno era troppo scomodo, per due motivi che adesso vi dico. Il primo era le conoscenze che aveva. Cioè lui aveva tutte le conoscenze esoteriche, iniziatiche. Lo prova il fatto che non era solo filosofia, a parte che è considerato il più grande filosofo del Rinascimento. Cioè c'era Pico della Mirandola, Marsiglio Ficino, ma Giordano Bruno è stato il top, veramente il più grande filosofo del Rinascimento. Ha veramente fatto la sintesi di tutto. Se uno si va a leggere i dialoghi, e vi invito a farlo, anche se non sono facili, perché è un italiano, era un mix di vari dialetti, però si capisce, se tu leggi i dialoghi bellissimi di Bruno, capisci che lui lì ci ha messo tutto, ha sintetizzato il pensiero greco, quello orientale, quello egiziano, e ha fatto una grande sintesi. Cioè lui aveva capito che l'universo è infinito, cosa che troviamo anche nei Purana. Non c'è solo quattro pianetini, il sole, delle stelline. Cioè abbiamo infiniti mondi, diceva Bruno. Come nei Purana. Ci sono infiniti universi per infinite esseri beventi. E questo Bruno l'aveva intuito, senza il cannocchiale di Galileo Galilei. Fra l'altro Bruno e Galilei si erano anche incontrati. E Galilei non ce l'ha fatta andare fino in fondo come Bruno. Bruno invece era così, diciamo, distaccato dal corpo che era pronto anche pur di dare un esempio, di dire no, di dire io non mi piego, cioè nel senso che non ho paura di far bruciare il mio corpo perché so di non essere il corpo. E questo lo possiamo verificare, perché ricordiamo che Bruno è stato sei anni imprigionato nelle segrete, diciamo, della chiesa a Roma, e sei anni di torture. Non è che stava in un resort con la spazia, lui veniva torturato quasi tutti i giorni per farlo cedere. E lui doveva cedere, lui doveva come Galilei rinnegare le sue opere. E questo dava molto fastidio, perché lui comunque, secondo punto, era stato comunque un Domenicano, cioè lui era uno dei loro. Ecco perché l'eretico dà fastidio, perché se sei fuori dal sistema, al sistema non gliene frega niente, il sistema vuole colpire chi è dentro e dà fastidio. Galileo Galilei, che era comunque uno scienziato cattolico, e quindi dava fastidio. Un Bruno, che era comunque un Domenicano, e quindi aveva fatto parte della struttura cattolica ecclesiastica. E quindi dava molto fastidio, perché poi era famosissimo. Bruno era famoso in tutta Europa. E quindi era un grande problema per il Vaticano, che sa qual è la verità, ma non vuole che la massa ancora oggi sappia. E c'erano vari insegnamenti esoterici che Bruno dava, soprattutto quello della reincarnazione, che la Chiesa ovviamente ha fatto sparire già nei primi secoli. Invece Bruno lo afferma, riprendendo Pitagora, Platone. E la cosa straordinaria è che Bruno dava anche altri insegnamenti. Dava insegnamenti di magia, la magia naturale la chiamava lui, non la magia, diciamo, gli altri rituali, quelli oscuri. Lui sapeva che l'essere umano aveva questa potenzialità, e questo dava fastidio. E lui perché tornò in Italia? Perché alla fine lui poteva anche non tornare in Italia. Anche su questa cosa io ho riflettuto in questi giorni. Bruno torna in Italia, non poteva starsene in Europa. Alla fine, volendo, poteva stare in Germania, Praga, andare in Spagna. Lui aveva gli agganci, aveva persone che lo stimavano. Aveva anche nemici, perché c'era molta invidia, in Inghilterra lo odiavano, perché lui era uno che non aveva pelli sulla lingua, le cose le diceva, e quindi aveva anche dato fastidio, sia a Parigi, sia all'università, ma anche a Londra. Però lui non aveva pelli sulla lingua, perché sapeva appunto che era fondamentale dire il vero. Perché torna in Italia? Perché aveva capito che è in Italia che si gioca la partita. aveva capito che è in Italia che bisogna combattere. E ci ha provato, è tornato a Venezia, era ospite di un nobile veneziano, poi questo qui lo denuncia, perché insomma c'erano state dei malintesi, insomma questo si aspettava che gli insegnasse chissà quali pratiche, Bruno gli ha detto, guarda, io non ti posso insegnare cose che non mi appartengono. E quello ha detto, allora sì, allora io ti denuncia l'inquisizione. Quindi il primo processo dell'inquisizione, diciamo, di Venezia, dove la scampa, poi però cosa succede? Che Roma dice, no, lo date a noi, questo è nostro. E lì c'è il grande braccio di ferro tra la Repubblica Veneziana e Roma e il papato. E lì ci fu uno scontro tra i nobili, c'erano i nobili che dicono, noi non possiamo dare Bruno, perché sennò ci facciamo la figura dei servitori, altri dicono, no, perché non dobbiamo entrare in contrasto col Papa, non ci conviene. Alla fine hanno vinto, come spesso in Italia, hanno vinto quelli diciamo più servi, hanno detto, è meglio tenersi buono il Papa, gli molliamo Bruno, e Bruno va a Roma. E lì lui non ha mollato un minuto, non ha mollato un millimetro, cioè lui ha risposto a tutto quello che gli veniva detto. Bruno ha, per anni, nonostante le torture, lo torturavano, però lo interrogavano, e lui rispondeva punto per punto. Diceva, mi spiegate sto dogma? Che vuol dire? Cioè, non capisco questi dogmi che voi imponete. Per me sono assurdi, se me li spiegate. E poi lui spiegava anche le sue posizioni filosofiche, che gli diceva, no, ma quello che tu dici va contro il dogma. Eh, Giordano Bruno rispondeva. e cercava comunque la conciliazione. La cosa straordinaria è che Bruno aveva capito che l'unico modo che aveva l'Europa di uscire dalle guerre di religione era di andare oltre il piano mentale, ma di arrivare a un livello spirituale dove si potevano armonizzare le varie... E' chiaro che non era fattibile. Non era fattibile. E lui ne era consapevole. Ha giocato il tutto per tutto. Ha capito che... Oh, la spacca. Poi comunque ha detto, oh, male che vada. Io ci ho provato, le mie opere restano, adesso leggerò un estratto. E poi, nei secoli successivi, però purtroppo in mezzo c'è stato il Settecento e l'Ottocento. Il Settecento illuminista materialista e l'Ottocento positivista, che sono la negazione della grande filosofia iniziatica del Rinascimento, di un Bruno, di un picco della Mirandola. E noi adesso dobbiamo recuperare. Quindi dobbiamo vincere gli ultimi secoli che hanno fatto deviare l'umanità. Dobbiamo riprendere il cammino che era iniziato con il Rinascimento, la deviazione che c'è stata con questi due secoli. L'unica cosa che hanno portato il Settecento illuministico ateo materialistico e l'Ottocento positivista materialistico anch'esso è la tecnologia. Quello hanno portato. Ma tecnologia che, senza spiritualità, come dico sempre, è alienazione. È una gabbia. È una gabbia. Perché se tu non hai la tecnologia interiore, che te ne fai di quell'esteriore? È come da Ranashimi alla bomba atomica. Cioè, fa un disastro. È quello. Quello è il grande problema. Però attenzione, perché non tutto il Settecento è stato così. C'è stato anche un altro illuminismo che purtroppo non ha vinto. Quello di un Voltaire che era molto più intelligente, molto meno dogmatico. Oppure c'è stato comunque nell'Ottocento il romanticismo, Novalis. Anche certe cose del Goethe. Goethe è scienziato che era uno scienziato non materialistico. Ecco, tutte quelle cose noi le possiamo riprendere, collegarle al Rinascimento e finalmente bisogna rifare tutto. Cioè, il punto fondamentale è che anche Bruno aveva capito e che quello che noi dovremmo fare dopo questa apocalisse è rifare tutto. Cioè, qui bisogna resettare, veramente bisogna fare un reset, ma non quello che dicono loro, cioè impoverire tutti, fare miliardi di schiavi e un'elite che se la spassa. No, qui il reset vuol dire che noi resettiamo tutte le balle che ci hanno detto e quindi ci facciamo una medicina nuova, una scuola nuova, un'educazione nuova, un lavoro nuovo, un sistema economico nuovo, tutto nuovo, tutto nuovo, ma nello stesso tempo antico, perché noi abbiamo tutte le conoscenze per fare questo. Un'architettura, noi non possiamo più continuare con l'architettura degli ultimi decenni, lo schifo che è stato fatto, no, con la speculazione edilizia. L'architettura reale e nel Rinascimento lo sapevano, ma ancora di più se uno va in India o in altre zone, quando si faceva una costruzione non si prendeva un terreno a caso, dice lì c'è, mi piace, costruisco, no, no, si cercava un punto energetico, cioè tu dovevi fare quella costruzione in un punto energetico, questo è molto importante e questo si chiama vastu, il vastu è questa scienza dell'architettura sacra dove qualsiasi casa non va fatta a caso, ma l'architetto era un iniziato e questo si è perso completamente, perché dopo secoli di positivismo studiano solo le forze basta che la casa regge e poi dove la fai, fai, no, perché se la fai in un punto energetico negativo sei fregato, questo è un esempio sull'architettura ma vale su tutto il resto, sulla medicina, sull'educazione, eccetera, eccetera. Ecco Bruno sapeva queste cose e ha cercato appunto di diffonderle, hanno bruciato il suo corpo, ma lui lo disse, avete più paura voi di fare la sentenza che non io di ascoltarla e attenzione, lui erano yogi, perché quando lo torturavano lui non ne metteva a lamento, non è così facile se uno lo torturi urla come un matto, invece lui gli spezzavano le ossa perché lui conosceva la tecnica che c'è anche nello yoga di separare la coscienza dal corpo e lui sapeva fare questa cosa, infatti quelli che lo torturavano erano stupiti, dicono come che quest'uomo lo torturiamo da anni e resiste, sei anni di torture, cioè una persona non resiste dieci minuti, una persona normale, quindi Bruno aveva delle capacità straordinarie e anche di questo la chiesa era consapevole e aveva anche timore. Vi leggo un estratto che un po' sintetizza la grandezza filosofica di questa visione, che è quella del nuovo rinascimento, che deve portare a compimento quello che non è stato fatto secoli fa. È tratto dal candelaio, opera teatrale, perché Bruno era anche uno scrittore letterario, oltre che filosofo, e questa è la sua opera teatrale che era considerata oscena, era uno dei motivi per cui lo avevano denunciato, insomma, tra le varie cose scomode. E nella, diciamo così, nella introduzione, dove si rivolge a una nobile donna, a cui dedica, come al solito, Bruno dedicava sempre le sue opere a un personaggio dell'epoca, Bruno scrive a proposito di una grande visione filosofica e qui dice Ricordatevi, signora, di quello che credo che non bisogna insegnarvi. Il tempo tutto toglie e tutto dà. Ogni cosa si muta, nulla si annulla, si annichila. È un solo che non può mutarsi, un solo eterno e può perseverare eternamente uno, simile a medesimo, a se medesimo. Con questa filosofia l'animo si aggrandisse e è messa in magnifica l'intelletto. Cosa vuol dire? Cioè, sentite, questa è la filosofia che non c'è più, non c'è più da secoli, questa vera filosofia, che poi, queste righe qui, Bruno ha sintetizzato tutto il Vedanta, cioè ha sintetizzato tutta la filosofia del Vedanta. Quello che percepiamo è mai illusione, tutto passa, il tempo, la fisica c'è arrivata, il tempo non esiste, ma come illusione esiste, ti dà tutto e toglie tutto. Dà tutto e toglie tutto. Cosa vuol dire? Che è una messa in scena, è una grande fantasmagoria. Uno è l'eterno, il Brahman, la sostanza spirituale, lui è immutabile e noi, oltre questo corpo, è quello che siamo. L'atman coincide col Brahman. Questo è molto importante e Bruno lo aveva capito e pensate, Schopenhauer lo disse, Giordano Bruno è come un filosofo vedantino, disse Schopenhauer, ma anche Spinoza è molto vicino alla visione del Brahman. Poi dopo ci sono vari livelli di comprensione del Vedanta. Sicuramente quella di Giordano Bruno è una di queste comprensioni. Quindi, ancora una volta, questo nuovo rinascimento come sarà? Innanzitutto per quelli che resisteranno a questa Apocalisse e sopravviveranno. Sopravviveranno integri, perché uno può anche continuare a respirare dopo l'Apocalisse, ma non è detto che sia ancora integro. Quindi, uscirne integri. e allora ognuno potrà fare questo reset. Ognuno potrà dare il suo contributo. Però per poter dare questo contributo bisogna iniziare a fare un lavoro che, secondo il mio modesto avviso, inizia innanzitutto da cambiare prospettiva. Ed è quello che il filosofo voleva fare. Noi gliel'hanno permesso, beh, noi proseguiamo il lavoro di Bruno. Ok? Vi ringrazio. Il video seminario di Valentino Bellucci Mantra Le porte dell'infinito è ora disponibile al link che si trova sotto al video nell'info box o nel nostro shopping online www.cavuresoterica.it alla voce video seminari.